Buongiorno amici, buongiorno, un grande spettacolo quello che si terrà a Legnano, tante serate belle nel mese di luglio, ma il 21 luglio, il 21 luglio, il 21 luglio, a Legnano, Uccio De Santis, sono io, Umberto Sardella, Antonella Genga, noi del MUDU faremo uno show a Legnano, a Parco dell'amicizia, in via dell'amicizia, tutto a base di amicizia, con tutti gli amici che verranno a trovarci a Legnano, Parco dell'amicizia di Legnano. Non perdete questa occasione, un grande show, due ore di spettacolo con Uccio De Santis, Umberto Sardella, Antonella Genga, vi aspetto numerosi, Legnano, ok, 21 luglio, io vi ho detto, vi aspetto, ciao.